Oggi vi porto la recensione di ben due prodotti di casa Ulanzi. Il primo è a mio avviso il migliore zaino fotografico che voi possiate comprare per qualità e prezzo. Il secondo invece è un treppiede in carbonio che può essere utilizzato in ben cinque modi diversi. Se vi ho messo curiosità mettetevi comodi e sigla. Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video. Come vi ho detto adesso nella intro lo zaino che vi sto per presentare è diventato il mio zaino che vado a utilizzare non vi dico tutti i giorni perché sapete che utilizzo la valigia fotografica ma quando sono in viaggio preferisco utilizzare questo dell'Aulanzi. Questo è lo zaino di cui vi voglio parlare si chiama BP-10 ed è uno zaino pazzesco. Partirei subito dalla forma è un 25 litri che come vedremo fra poco può diventare addirittura un 35 litri e quando è totalmente esteso veramente può entrare qualsiasi cosa compreso un Ronin anche di quelli veramente grandi. Per quanto riguarda i materiali siamo veramente al top. Per poter alzare il nostro zaino abbiamo ben tre maniglie questa è la prima quindi una maniglia che sta nella parte superiore dello zaino abbiamo poi una maniglia a metà zaino come state vedendo e abbiamo una terza maniglia che è qui dietro lo zaino che può essere utilizzata chiaramente come maniglia ma è stata creata per poter mettere questo zaino direttamente su un trolley ed è chiaro che questo è molto comodo quando siamo in viaggio. Partirei facendovi vedere la prima tasca ovvero questa quella rigida sentite molto rigida nella quale una volta aperta si apre in questo modo a soffietto da questa parte abbiamo delle stringhe elasticizzate ce n'è una due tre e quattro dove possiamo andare a mettere ad esempio delle batterie o ad esempio dei cavi io ad esempio questa l'ho utilizzata appunto per i cavi mentre da quest'altra parte abbiamo una tasca con zip una tasca dove praticamente entra una mano. Ho trovato veramente molto comodo l'apertura di questa tasca perché quando lo zaino è così e dobbiamo aprirlo non può cascare niente. Seconda tasca qui sotto con lo stesso identico concetto quindi andiamo ad aprirla si aprirà chiaramente a soffietto è molto più grande di quella sopra è comunque abbastanza rigida ma non rigida come questa e qui abbiamo una classica retina dove entra praticamente quasi due mani mentre da questa parte abbiamo una tasca con cerniera dove entrano sì anche qui praticamente due mani. Non ve lo dico neanche che l'apertura a soffietto anche qui è una bomba. Scusate l'inquadratura ma dovrei fare dei b-roll ma assolutamente non ho tempo di farlo quindi faccio la recensione con questa inquadratura qui però cerco di farvi vedere al meglio tutte le tasche di questo zaino. Allora da questa parte abbiamo una tasca pensata per la borraccia elastica e qui c'entra tranquillamente una borraccia anche da un litro. Poi abbiamo un'altra tasca che come vedete dà accesso allo zaino quindi qui potremo mettere dentro lo zaino la nostra macchina fotografica e avremo chiaramente un accesso rapido per poterla prendere. Da questa parte abbiamo poi un'altra tasca con zip questa entra una mezza mano o qualcosa del genere mentre qui sopra abbiamo un'ulteriore tasca con una retina qui entra una mezza mano e abbiamo un'altra tasca con retina e con zip anche da quest'altra. Giriamo lo zaino dalla parte opposta qui andremo a mettere un treppiedi fotografico o uno stativo fotografico io chiaramente ci ho messo lo stativo l'ultima volta che sono andato a Milano quindi nel video precedente a questo e qui abbiamo la classica fettuccia per poter bloccare appunto stativi o treppiedi. Qui sotto abbiamo un'altra tasca dove però non abbiamo un accesso allo zaino perché questa è la parte interna dello zaino ma abbiamo invece da questa parte una tasca con zip veramente molto molto generosa. Per quanto riguarda gli spallacci materiale assolutamente top e anche se lo caricherete non avrete fastidio alla schiena. Infatti possono essere regolati sia da questa parte che da quest'altra e chiaramente a metà spallacci abbiamo anche la cinghia per distribuire meglio i pesi. Materiale traspirante sulla schiena e qui sotto abbiamo un buco dove vi faccio vedere passa una mano e questo perché c'è un altro accessorio che vi faccio vedere dopo anzi ve lo faccio vedere subito ed è questo di cosa stiamo parlando di una cintura lombare per poter distribuire meglio i pesi quando l'ho vista la prima volta vi dico la verità ho detto non la userò mai perché come vedete è grossa è spessa e sinceramente non mi piace proprio visivamente la cintura lombare su gli zaini però mi sono dovuto ricredire perché sui due lati sia da questa parte sia da quest'altra ci sono due tasche con zip che sono dei veri e propri marsupi ora non è la cosa più bella del mondo da vedere ve lo assicuro però è veramente troppo comodo infatti quando andrò a milano domenica la utilizzerò perché avere due marsupi su due lati dove possiamo mettere il telefono portafoglio chiavi insomma tutti quegli oggetti piccolini che ci possono servire e averli lì a portata di mano si fa la differenza ve la faccio vedere montata sullo zaino come vi dicevo non è la cosa più bella da vedere però avere questi due scompartimenti per me è molto comodo come vi ho detto prima la forma di questo zaino è da 25 litri ma se andiamo ad aprire questa tasca aspettate un secondo ok lui si estende e arriva a portare 35 litri vedete quanto è più grande ecco se noi andiamo aprire questa tasca che abbiamo appena esteso entra qui dentro entra veramente di tutto come vedete entra un braccio fino praticamente al gomito e chiaramente questa tasca così grande è stata pensata per poterci mettere un gimbal di qualsiasi tipo io ho l'RS 3 mini e qua dentro ci balla potete mettere assolutamente qualsiasi tipo di gimbal all'interno di questa tasca troveremo due stringhe che serviranno per poter essere posizionate qui ci sono quattro punti di ancoraggio per poter andare a mettere o uno stativo o quello che volete voi compreso chiaramente un treppiedi all'interno di questa tasca enorme abbiamo due taschine con retina da questa parte una tasca con cerniera qui sopra e un'altra tasca veramente gigante qui sotto senza cerniera aprendo poi lo zaino nel compartimento principale prima cosa che si nota sono chiaramente queste due fettucce comodissime quando siamo in esterna in modo tale che questo non va per terra e qui sopra abbiamo una tasca enorme per computer fino a 16 pollici una tasca leggermente più piccola per ipad e come vedete altre due tasche con retina e con zip aprendo lo zaino e togliendo le cinghie ci troviamo davanti al modulo principale dove come vedete c'è tantissimo spazio per poter mettere veramente di tutto i divisori chiaramente potete metterli come volete voi e sono fatti veramente bene sono ben imbottiti ma anche belli duri quindi non si spostano state tranquilli e così avete visto lo zaino un po più da vicino mi dispiace non ho il tempo di poter creare un'immagine diversa da questa con dei b roll perché sto andando di corsissima però volevo parlarvi di questo zaino perché per me è il migliore zaino fotografico qualità prezzo infatti in questo momento su amazon non è disponibile era disponibile fino a una settimana fa se lo volete comprare lo potete comprare dal sito di ulanzi se no aspettate un attimo tanto tornerà disponibile a breve anche su amazon vi lascio chiaramente il link qui sotto sia allo store di ulanzi sia allo store di amazon ma perché questo è diventato il mio zaino fotografico molto semplice per chi mi segue da un po sa che ho avuto una collaborazione con pg tech che mi ha inviato il suo super zaino quello da 25 litri che poi diventa un 35 che praticamente è identico a questo sinceramente quello zaino da chiuso è veramente enorme quando poi andate estendere a 35 litri non ne parliamo quindi cosa ho fatto l'ho venduto perché non lo utilizzavo e ho ricomprato il modello sempre della pg tech da 25 litri quello che non si estende e con quello mi sono trovato assolutamente molto bene quindi quando dovevo fare delle trasferte al volo magari un giorno portavo quello piuttosto che la valigia fotografica è veramente in dubbio che ulanzi abbia preso spunto dallo zaino di pg tech perché sono praticamente identici tranne per queste due tasche che sono state aggiunte da ulanzi e che sul pg tech non ci sono e dicendovi realmente quello che penso ulanzi credo che abbia copiato a pie pari lo zaino di pg tech perché ha le stesse identiche soluzioni è fatto veramente nello stesso identico modo ha aggiunto queste due tasche e l'ha fatto uscire sul mercato ora non entro in merito a questa cosa qui quello che vi posso dire è che quello di pg tech costa 260 euro 270 euro vero è che vi danno anche una borsina piccolina che potete utilizzare come seconda borsa vero però costa 260 euro mentre questo ne costa 150 160 i materiali sono praticamente simili per quanto mi riguarda pg tech ha ancora un piccolissimo vantaggio cioè se avete due zaini vicini pg tech lo sentite che è ancora migliore ma è talmente poco migliore rispetto a questo rispetto al prezzo che ragazzi mi piace più questo altra cosa quando è chiuso è di una dimensione accettabile ok è veramente un 25 litri che diventa un 35 mentre quello di pg tech mi dà veramente l'impressione di non essere un 25 litri che diventa un 35 ma di essere un 30 che diventa un 45 perché quando lo estendete tutto diventa una vera e propria valigia e una volta che è tutto esteso e che è tutto carico vi peserà 20 30 chili quindi è per quello che l'ho venduto ma torniamo a lui come mi sono trovato veramente benissimo domenica prossima andrò nuovamente a milano però andrò in giornata quindi vado e torna in giornata e porterò lui anche in questa trasferta proprio perché per quanto mi riguarda mi sono trovato veramente da dio non ho null'altro da dirvi se non che appunto i link vi lascio qui sotto in descrizione e che c'è anche un secondo modello non estendibile costa ancora meno vi lascio sempre qui sotto in descrizione anche quello non l'ho provato quindi non ve ne posso parlare però penso che sia la copia di questo non estendibile come del resto anche pg tech a quei due modelli lì secondo prodotto di cui vi parlo è questo che cos'è è un treppiedi fotografico non è però un treppiedi fotografico normale prima di tutto è in carbonio e seconda cosa può essere utilizzato in cinque modi diversi quindi utilizzato come treppiedi fotografico è solo un modo in cui lo possiamo utilizzare qui ve lo dico subito non uso praticamente mai treppiedi fotografici utilizzo mini treppiedi magari per l'action camera per poter fare dei backstage questo sì ma il treppiedi per la macchina non è un accessorio che utilizzo normalmente anche per esempio adesso in questo momento la macchina non è su un treppiedi ma è su un braccio attaccato direttamente alla schivania quindi per me non è un accessorio che vado ad utilizzare molto spesso comunque la parola chiave di questo treppiedi è modularità infatti questa è la testa testa fotografica fatta tutta in acciaio e che funziona assolutamente alla perfezione qui abbiamo l'affarino da mettere chiaramente sotto la macchina fotografica ma qui abbiamo un'arca swiss quindi siccome io sulla macchina ho il rig posso mettere la macchina direttamente qui senza dover avvitare niente sulla testa abbiamo anche una bolla per mettere appunto in bolla la macchina fotografica e questo è l'innesto veramente molto particolare non ho mai visto niente di simile in un treppiedi questo infatti è il secondo pezzo di questo treppiedi componibile quindi che cos'è non è nient'altro che un vero e proprio mini treppiedi che possiamo andare ad utilizzare in molteplici modi quindi adesso io ve lo apro così e come vedete qui abbiamo un invito con un meccanismo che si abbassa vedete quando io prendo la testa fotografica e la voglio mettere su questo treppiedi non dovrò avvitare niente dovrò soltanto abbassare questo meccanismo inserire la testa e sono pronto in questo momento lui è un treppiedi da macchina fotografica in confezione poi avremo anche un'altra testa con una classica clip da telefono quindi potremmo utilizzarlo chiaramente anche con un telefono o con qualsiasi cosa che ha una vita fotografica da un quarto abbiamo poi queste tre sezioni che sono identiche quindi ve ne faccio vedere soltanto una chiaramente è in carbonio e chiaramente si può andare a estendere fino a un metro e trenta mi sembra aspettate un attimo sì un metro e trenta queste sezioni si possono andare a bloccare grazie a questo meccanismo su ogni sezione chiaramente ce n'è una e alla fine avremo un gommino sotto il gommino avremmo il la classica punta che si utilizza negli stativi cerco di farvela vedere così perché è molto piccolina ma cosa ci possiamo fare con questa sezione allora questo cavalletto è stato sicuramente pensato per chi fa escursioni fotografiche magari in montagna e non può portarsi dietro chissà quale attrezzatura quindi hanno creato questo prodotto in carbonio che pesa poco più di un chilo e questa sezione è stata pensata proprio per poter far trekking infatti se noi l'andiamo ad estendere tutta possiamo tranquillamente andarci a mettere il peso sopra per appunto fare trekking e utilizzarla come una normale bacchetta chiaramente ne possiamo utilizzare due possiamo utilizzarlo come selfie stick infatti se noi prendiamo direttamente la testa fotografica o la testa quella per il telefono e andiamo ad inserirla qui come potete facilmente immaginare questo può diventare un selfie stick non so se entro nell'inquadratura però se lì ci fosse il telefono la macchina questo può essere utilizzato appunto come selfie stick ma non è finita perché se andiamo a prendere questo treppiedino e lo andiamo ad aprire completamente possiamo andare a collegarlo tramite questo innesto veramente super geniale e chiaramente questo diventerà un monopiede da un metro e trenta non ho mai usato un monopiede in vita mia però potrebbe essere assolutamente super comodo per qualcuno e infatti lui rimane in posizione andando poi a scollegare la testa e scollegare il treppiedi da qua sotto possiamo prendere le tre sezioni e andarla a mettere questa volta sotto il treppiedi che vi ho fatto vedere prima quindi possiamo andare a fare una cosa di questo tipo e in un secondo ecco questa è la cosa veramente bella ci vuole un secondo e non dobbiamo abitare niente questo treppiedi diventa un treppiedi fotografico da un metro e cinquanta forse cinquantaquattro se non sbaglio adesso ve lo apro e ve lo faccio vedere e così è tutto aperto chiaramente manca la testa la possiamo andare a mettere qui sopra e siamo a posto lui si chiama tt35 e per quanto mi riguarda è uno stativo che mi ha veramente impressionato la qualità dei materiali è super top è tutto in carbonio e come avete visto è talmente semplice da utilizzare che vi viene voglia di utilizzarlo ora come vi ho detto per il genere fotografico che faccio io difficilmente vado ad utilizzare dei treppiedi quindi sì lo terrò e sì lo utilizzerò quando mi servirà ma non è una roba che vado utilizzare tutti i giorni ma se dovete viaggiare o comunque dovete fare delle escursioni a treppiedi e vi serve un treppiedi un monopiede un selfie stick delle bacchette per fare trekking e chiaramente un cavalletto fotografico ragazzi questo prodotto può fare tutto e lo fa tutto estremamente bene per quanto riguarda il prezzo poi non è neanche troppo alto per essere un treppiedi in carbonio stiamo parlando di 200 barra 250 euro per avere un prodotto che potete utilizzare appunto in cinque modi diversi penso di avervi detto tutto su questi due prodotti per quanto mi riguarda lo zaino è veramente fantastico e come vi ho detto già parecchie volte durante il video è diventato il mio zaino fotografico principale mentre per quanto riguarda questo sì lo andrò a utilizzare ma non ne farò un utilizzo molto intenso però mi piace tantissimo il concetto che ci ha messo dietro ulanzi anche perché non so se esiste qualcosa del genere perché non conosco molto bene i cavalletti però se non dovesse essere copiato da nessuno hanno fatto veramente un piccolo gioiellino specialmente per quanto riguarda gli innesti si innestano in un secondo si tolgono in un secondo non bisogna avvitare niente ed è veramente super comodo va bene ragazzi fatemi sapere con un commento cosa pensate di questo video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ah no aspettate prossimo video video backstage da milano quindi rimanete sempre connessi ciao ragazzi